Amici di motori a 360 gradi, siamo con l'amministratore delegato del gruppo Ottenti, il dottor Andrea. L'avevamo conosciuto, anzi lui ci ha fatto scoprire la bellezza della nuova Astra, perché la concezione di Opel si sta cambiando, sta mutando, sta cattivando una linea cattivante, i numeri poi qua a Brescia lo dimostrano. Però voi avete voluto fare qualcosa di più, avete voluto coniugare la bellezza della tipologia delle quattro ruote con chi soffre e chi meglio di potenziali clienti, anche per avvicinare la clientela al prodotto Opel, per far dimenticare quello che è stata la Opel. Ottima macchina, però un mondo l'ha anche. Il concetto è nato che sicuramente abbiamo adesso il nostro nuovo arrivo, la nuova Astra, adesso presentiamo la nuova Astra Station Wagon, che è un'ammiraglia del nostro settore. Ho detto che ormai è da due anni che siamo sulla piazza e devo dire che siamo stati accolti molto bene, ci fa piacere poter lavorare a Brescia in modo così positivo, e l'avevamo detto che è il momento di ridare anche qualcosa alla piazza di Brescia. Per cui noi che siamo legati a mobilità abbiamo cercato un tema, un modo, di poter collegare a chi soffre o poter dare qualcosa. Allora abbiamo detto, perché non facciamo guidare i nostri potenziali aspiranti clienti, i nostri clienti, il nostro nuovissimo prodotto, il prodotto più nuovo che abbiamo, e per ogni chilometro che fanno noi doniamo 50 centesimi all'associazione Susan G. Common. che è per cui il motto è più chilometri fai, più bene fai. Da dove nasce questo video dottore? Da dove nasce? Da dove nasce, vabbè, ci siamo un po' ragazzi con cui lavoriamo qui, siamo abbastanza giovani, spiritosi, ho detto troviamo un modo simpatico per inserirsi nel tessuto sociale dove noi lavoriamo ogni giorno, allora abbiamo buttato un po' di idee e penso che questa idea del chilometro e per ogni chilometro fatto c'è una parte che viene donata, mi sembra molto attinente al nostro settore. Che numero vi aspettate? Anche per poi girare a favore della situazione che è per il cancro. Sì esatto, è contro la lotta del tumore al seno, molto popolare, per cui noi ci aspettiamo ovviamente che faremo migliaia e migliaia di chilometri affinché noi possiamo ovviamente donare il più possibile. Bene amici di motori a 360 gradi, avete capito, vedete qua che concessionaria autentica, duplice scopo, la donazione per chi soffre che purtroppo la malattia del secolo colpisce e colpirà ancora, quindi la ricerca deve essere aiutata, e poi nello stesso tempo potete coniugare la bellezza e l'estetica della nuova Opel Astra e capire che la Opel è proprio a 360 gradi. Alla prossima!